Ciao a tutti da Valeria Subito dopo il video Ridley Scott e il suo progetto in collaborazione con Masci Lima Restate con noi Victoria e Lily sono state trovate in pessime condizioni I loro genitori sono morti Sono rimaste da sole nella foresta per almeno cinque anni Ciao Victoria Come siano sopravvissute è inspiegabile Sono il fratello del tuo papà Ti ricordi, zio Luke? In un ambiente familiare e amorevole Victoria e Lily ritornerebbero a una vita normale Ne sei sicura? No Ciao Mamma Sono Annabelle, chiamatemi così o come volete Mamma Queste bambine non sono ancora pronte E ho capito che neanche io sono pronta a questo Che fanno di strano? Parlano con le pareti E che cosa dicono? Mamma Le cose miglioreranno Promesso Ti piace? Vorrei che mi parlassi della mamma No Che cos'hai? Non voglio che tu ti faccia amare Non mi succederà niente di brutto Non lo puoi fare Qualcuno farà loro visita Victoria che c'è sotto il letto Un fantasma è una presenza che crea turbamento Condannata a disturbare l'anima sempre Giorno dopo giorno Dov'è adesso? È qui In questa casa Mamma smettila L'avevi promesso Chi è mamma Victoria? Mamma Ridley Scott Il papà di Blade Runner E il network di intrattenimento Machinima Del quale modestamente facciamo parte anche noi Insomma Questi due grandissimi colossi Firmeranno una serie di 12 corti di fantascienza Non sarà il regista in persona a dirigere i lavori Però sarà la società di produzione che porta il suo nome La Ridley Scott Associates La RSA Per i nomi dei papabili registi si parla di Martin Scorsese Mica male Sam Mendes Catherine Bigelow E Neil Blomkamp L'accordo tra Scott e Machinima Permetterà alla RSA di mettersi alla prova con nuovi formati Di cimentarsi in progetti più convenienti E con distribuzione garantita Mentre dal canto suo Machinima potrà contare sulla pubblicità di un nome Come quello di Scott Magari facendo anche meglio di quanto non faccia oggi Cioè qualcosa come 262 milioni di visitatori E 2,6 miliardi di video visti al mese Mica male Per oggi è tutto La nostra pagina Facebook Film is Now Vi aspetta per un vostro like Mi raccomando Ciao alla prossima Ciao alla prossima